Neo Cibalgina, anche questo mal di testa se n'è andato. Ti amo dal giorno che ti conobbi nel mio campo. Fu certo la bontà divina che mi condusse al tuo campo quel giorno. Un film spettacolare, la storia di una donna. La storia di Ruth, venerdì alle 20.40, su Rete 4. Da oggi, più devi leggero, più peso hai il regalo. Acqua San Bernardo ti regala niente di meno che una poltrona. E Opla, dove la metti, sta. Da Acqua San Bernardo. Ne sono successe di cose negli ultimi anni. Per questo, il Corriere della Sera vi regala il nuovissimo Atlante d'Europa e d'Italia e l'enciclopedia geografica mondiale di Agostini. Ogni lunedì, martedì e mercoledì. E va, America! Carai, America! Perché arrabbiarsi? Noi della Ricordi abbiamo già insegnato a 200.000 persone in Italia a suonare il pianoforte con suono subito. Il corso che ti fa suonare sin dalla prima lezione. Con i fascicoli, le cassette, il video e il segnataste. E sarai premiato con un favoloso pianoforte. Da Ricordi, ne dico la 2.900 lire suono subito. Quando sei raffreddato, rinazzina spray nasale. Libera il tuo naso. Evitare l'uso prolungato. Di apretti ce ne sono tanti. Ma solo uno ha il manico. Merito! Se c'è il manico, è solo merito. È la nuova forza polenta. È finish pastiglie e energia concentrata. Facile da usare. Finish pastiglie sciogli anche le incrostazioni più difficili. Finish pastiglie. Più pratico. Più efficace. Adesso cuccia. Ciao, Kaori. Volevo ridarti questo. I miei libri. Ciao, Luca. Mangi con noi. Formaggio e verdure. Grazie, ma dovrei... Neanche se è Philadelphia. Morbido. Fresco. Cremoso. Il gusto di Philadelphia è così unico. Ma così unico che... Philadelphia, così unico da dimenticare tutto il resto. Craft, cose buone dal mondo. Ma non dimenticare che questo prezioso servi formaggio in silver plate con campana. Lo puoi avere in regalo raccogliendo i punti su tutte le confezioni di Philadelphia. Mitsubishi Pagero. Per passione. Mitsubishi Space Bacon. Per amore. Mitsubishi Space Runner. Per piacere. Gengive delicate o infiammate? I problemi alle gengive vanno affrontati in tempo. Neo-Emoform ha un'efficace azione preventiva grazie ai sali minerali da cui nasce il suo gusto salino. E non a caso ha un colore rosa. Il colore delle gengive sane. Neo-Emoform previene e combatte i problemi alle gengive. Neo-Emoform. Gusto salino. Colore rosa. Gengive sane. Musica 10-1 di 120 Marti. 25 g. A Cs. ية. A Cs. A Cs. A Cs. A Cs. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prodotto da Steven Spielberg, Miracolo sull'Ottava Strada. Domani sera alle 20.30 su Italia 1.